Negli anni 30 circolava in città con il numero 904, poi cambio di motori nel 48 e la vettura venne rinumerata 1052. Ma è solo dalla fine del 2008 che lo storico tram dell'ANM si dota di una tecnologia più moderna e dalla carrozzeria alla pavimentazione, dai serbatoi ai dispositivi di emergenza, la vecchia signora cambia completamente look e si presenta oggi con una livrea rinnovata. La vettura rimodernata, risultato di mesi di lavoro per i tecnici dell'azienda napoletana di mobilità, è stata presentata in piazza municipio con il sindaco De Magistris e l'assessore Anna Donati.